una cosa importante che abbiamo sviluppato nel nuovo sito è la possibilità di prenotare le visite in azienda già avevamo tantissime visite prima però bisognava mandare una mail o fare una telefonata e aspettare la risposta adesso invece c'è la sezione vivi la cantina che fa scegliere tra tre tipi diversi di esperienza si può fissare già in automatico la data secondo delle necessità del visitatore l'orario e non serve alcuna risposta perché già è prenotato il tipo di visita selezionata in più si può anche direttamente regalare la visita ad un amico quindi prenotandola e inviando la mail al destinatario